Musica Musica E signori andiamo al terzo diedere DLC su 4 di questo Watch Dogs 1, in realtà il quarto è un gioco completo, uno spin-off, quindi possiamo anche dire 3 DLC su 3, e comunque se si tratta di Cospirazione, tanto qua perennemente piove, sarà la parte 55 e sarà l'ultima volta che andremo, diciamo, fuori pista con qualche operazione secondaria DLC, quello che è. Comunque, Cospirazione è pagato 5€, che include pure questo abito che a me piace tantissimo, vabbè, è buio sotto la pioggia, non lo vedete, ma è tanta roba. Ok, allora, NVZN, ma non è questo che voglio giocare, scusate. Qua c'è la cash run, scommesse, trip digitali forse. Eh sì, ragazzi, siamo totalmente fuori pista, fantastico. Aspetta, ma ce l'ho anche sullo smartphone, aspetta. Aspetta. Trip digitali. Cospirasi. Oh, alleluia. Ah, proprio qui, ok, in loco la facciamo, perfetto. Ah no, invece no, attento ai cyborg, corritori, mantieni le distanze, ok. Raga, mi spaventa. Già è migliorata la grafica, il che mi piace. Uccidi cyborg. Profila cosa? Ah, ok, devo profilare i cyborg. Tre cyborg in zona. Ok, sei tu. C'è, ecco. Ah, ok, devo sparargli lì. Chi sono gli altri cyborg? Aspetta. Ho 29 secondi. Uno è lui. Ok, buono. Bene, ok. Punto abilità ottenuto. Punto abilità ottenuto. Punto abilità. Ok, allora. Furtività, eliminazione, conteggio. Mi serve la concentrazione, c'è? Ok, perfetto. Concentrazione, prima cosa. Quanto ardate sono? 10? O probabile che siano 10, eh. Vabbè, riprendiamo il gioco. Andiamo alla seconda ardata di cyborg. E va profilata laggiù. Mi stanno cadendo le cuffie, che cazzo. No, però è bellissimo. DLC, fantastico. Comunque non c'è la polizia che ti rompe i coglioni. Ci sono tre cyborg in zona. Ok, due sono loro. Ok, uno. Ho 40 secondi. Madonna, raga. Proprio una pippa sono. Ecco il terzo. Ti vedo, sai. Punto abilità ottenuto. Ok. Seconda ardata andata. Beh, finché sono così va bene. Il problema è quando sono di più. Comunque. Colpi stordenti. Ricarica dello scanner. Decisamente. Avanti. Sì, almeno devi ricarica a modo, eh. Sia chiaro. Terza ordata. 3.620 punti. Sono 4 i cyborg. Ok, già ne ho individuati 3 di 4. Buono. Allora, non si devono avvicinare perché poi esplodono. Perfetto. Aspetta, eh. Buono. Mi serve adesso l'ultimo. Mi vuole tanto sapere dove si trova. È lui. Cazzo. Ok. Terza andata andata, ragazzi. Sto morendo dal caldo. Un punto abilità. Aumenta il tempo per eliminare i cyborg prima dell'esplosione. Ok. Mancano due e abbiamo finito i livelli 1. Ricarichiamo la pistola. E andiamo avanti. Sicuramente me lo sento che arriverà il momento in cui bisognerà sparare in due punti. Me lo sento troppo. Vabbè, ma non facciamoci la testa prima di averla rotta. 5890 punti. Scansione. Ok, sono 6. E 4 ce l'ho già sottotiro. Perfetto. Fuori. Bello! Ricaricati, ti prego. Buono. Dove sono gli altri? C'ho 36 secondi scarsi. Ok, uno è lì. Perfetto. È pure fermo. E uno è là. C'ho 25 secondi. Ce lo dovremmo fare. E' un po' di ricaricati. E lo investiamo nel fucile di precisione. Fucile di precisione, ragazzi. Oh, lo shotgun. Come sarà bello. Ok. Via verso l'area 5. Madonna, è bellissimo però. Già sto filtro violaceo. Tanta, tanta roba. Che poi mette pure in risalto l'abito. Il che è ancora meglio. Che è che mi scrive. Che cosa volete. Non ho tempo per voi. Certo che questa supposta mezzo lì al cazzo. Ok, sono tutti qua. No. Sei un coglione. Buono. Buono. Ok. Madonna, che culo. Che culo. Uff. Ho un punto abilità. Allora andiamo verso l'ultimo. Sparacolpi stordenti. Poi rimarranno appunto altri 5. E sono 10 i livelli per forza. Avanti. Oh, stiamo facendo benissimo però. Però ho un problema maggiore. Che sta shotgun non mi torna. Cioè sono fucile di precisione. In realtà non è male però. Si poteva fare meglio. Ho due fucili di precisione. La mira troppo lenta. Però minchia 530 metri è lontano. Cioè proprio mi vuoi male. Ma non è che posso... E appunto, grazie. Che è lato elettrica. Vedete che rumore fa. Va bene, signori. Ordata 6. I cyborg sono 5. Fammi scannerizzare un secondo. Ok, 4 ce li ho in bella vista. Che uno eri tu era palese. Dovetevo sparare? Grazie per avermelo detto in ritardo, eh. Ce n'è uno, sei tu? Preso. Con 39 secondi rimasti. Ok, io vorrei una nuova arma qua se è possibile. Come? No. Raga, no. Due punti no. Aspettate un secondo perché sto morendo. Minchia raga, sto sudando malissimo. Con la felpa. Va bene. Via. Andiamo avanti. Non posso acquistare punti e quindi me la prendo in quel posto. 170 metri. Per l'ordata 6. Quindi a sto punto mi viene da pensare che... I cyborg... Cioè le ordate siano più di 10. Perché se mi dai un punto... Però i livelli 2 costano 2 punti... Mi devi fare 15 ordate. Ma il che ci sta pure, eh. Però sapevo che sarebbe arrivato quel momento in cui avrei dovuto sparargli in più di un punto. Ok, già ne vedo un paio laggiù. Praticamente il conteggio parte da quando comincio col primo, vero? Ok. Ok. Buono. Ce ne ho due davanti. E uno è laggiù. Dai, 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 dai. Ma come si sta scaricando la batteria? Ma sei uno scam di merda. Ok, c'ho 23 secondi per l'ultimo. E ho capito dove si trova. Laggiù. Ok, ce la possiamo fare. Easy. 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 E non è mica tanto alla fine, però. Ce la siamo cavicchiata. Due punti. Buono. Allora. Togliatemi dalle palle quest'arma. E voglio la shotgun. A posto. Avanti. Mi farò due round con la shotgun. A me va bene. Però c'è solo quattro colpi. Cazzo. Male, eh. Ma devo tornare la pistola. Vabbè. Allora. Prossimo round, ragazzi. Via. Via. Tu. Bello lì. Remane uno che è lui. Meno male, munizioni infinite. Buono. Madonna. Con quest'arma qua è tutto più bello. Are 8 ripulita. Non sono 10, ragazzi. Non saranno mai 10. E un punto abilità, purtroppo, è troppo poco. Andiamo avanti. Area 9. E' armato. Ti sto salvando il culo, cogliona. Madonna. Eri uno di loro. Ne rimangono tre. Chi sono? Loro. E' sulla gamba. Lui ce l'ha sul braccio. Godo. Via. Vabbè, ragazzi. Con quest'arma qua, dai. Una barzelletta. 26.410 punti. Batteria potenziata. Assolutamente. Devo individuarli prima. Comunque, vabbè, sì. C'ha 4 colpi, poi ricarica. Abbastanza easy. Buono. Sta molto di GDR questo, eh. Ok, fammela prendere un attimo larga, perché qua... 2, 4, 6, 7. Ne vedo 7, però. Ok, tu sei palesemente 1. Via. Via. Bello. 3 ne rimangono. Lui sono di quelli. Ok, tranquillo. 2. Uno è là per terra. E uno è dietro di me. Oh, cazzo. 30 secondi. Possono essere buoni. Perché lo vedo. Lo vedo. E' accasciato in terra. Basta solo raggiungerlo. Questi sono innocui, bene o male. Appunto. Sono innocui, ragazzi. Area 10 ripulita. Lo sapevo che non ci fermavamo a 10. Un punto solo. Non basta. Andiamo avanti. Minchia, 900 metri. Mi tocca prendere... Il veicolo. Non è vero un veicolo, però vabbè. C'è quella macchinetta laggiù. E io quasi quasi favorisco, sai. Facciamo come ladri. No, sto filtro bluastro è tanta, tanta roba. Davvero, continuo a ripetere, non mi stancherò. Il ponte non è alzato, no. Perfetto. Il giocato ti manda da un capo all'alto della città. Secondo me ne sono tipo 45.000 punti, me lo sento. Comunque. Sono otto cyborg. E tu sei la prima. Che se ne va. Fuori. 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 Ok. Morto. Corazzato. Che vuol dire corazzato, raga? Rimane uno, ma... Si fa desiderare. Si fa desiderare, ma noi lo desideriamo più di lui. E allora. Area 11 di pulita. 35.740 punti. Due punti abilità. Eheh. Eheh. Proietti anti-cyborg. Proietti anti-cyborg, va. 150 metri. 150 metri. Via, via! 9 cyborg. Fuori uno. Due. Due. Tre. Quattro. Madonna, corrono questi. Cinque. Perché non lo cogli lì? Ok. Mangano due, son loro. Meglio se vengono tutti insieme. Si spaviano meno fatiche. Bello lì. Bello, bello lì. Bello lì. Area 12 ripulita, ragazzi. 40.000. Lo sapete che secondo me arriviamo a 45.000 punti. Abbiamo un punto abilità. Le abilità da sbloccare sono ancora due. E conti tornano. Via. 115 metri per la prossima. Che poi realtà sono meno perché c'è il raggio. Cioè, lui te lo calcola sul centro del raggio. Quindi sono circa 20-30 metri meno. Ma vabbè, poco importa. Ok, sono sette cyborg, ragazzi. Alcuni l'ho già riconosciuto dagli occhi rossi. Fuori uno. Corrono. Gli hanno messi itineranti a bomba. Bestia proprio. Rimangono quattro. Spara nei punti deboli. E fra, lo so. Ma se non si presentano davanti a me. E si stanno presentando. Prima uno. Poi l'altro. Ok, mobilizzato. Ne rimangono due. 25 secondi. Ricaricati. Sono tutti due accasciati. Devo solamente fare le cose in tempo e poi ci siamo. È là. Ce la devo fare. Ok. 5 secondi di anticipo. Area 13 di pulita. 44.770. Secondo me possiamo anche scavalcarli. 45.000 punti. Rigenere la concentrazione. Tadda l'esplosione della bomba. No, facciamo la concentrazione. Va. Avanti il prossimo. St'astronave. Che inquietudine, raga. E sono altri otto. Che però potevo anche iniziare a scansionare prima. Perché sono un coglione. Bello lì. Dove vieni? Da là? Quelli che corrono bene o male sono quelli... ...più facilmente... ...abbattibili. Via. Via. Via dai coglioni. È rimasto uno che si è mobilizzato. E sono un coglione io, ma ce la faccio lo stesso. Minca. 25 secondi prima. Buono. Area 14 di pulita. E abbiamo un punto abilità che non possiamo spendere. Allora andiamo avanti. E rimane l'area 15. Forse facciamo 50.000 punti? No, forse di più. Secondo me i punti sono variabili invece. Sono... Cioè, meno tempo ci metti. Più preciso sei, più punti ti danno. Secondo me funziona così. Magari poi mi sbaglio, eh. Comunque. Quello lì ha un'arma. Dieci cyborg. Via. No. Buono. Via. Li ho fatti fuori tutti. Minchia, oh. Due punti abilità. C'ho tutta l'abilità sbloccata a questo punto, ragazzi. Mi vengo a pensare che... Sarà l'ultima ordata questa. È per forza. Se no... Oh, non si spiega. Vi immaginate, ragazzi... Ti può arrivare qui non aver sbloccato nessuna abilità. Cioè, sarebbe veramente infattibile. Almeno una shotgun ce la devi avere. E magari facessi anche qualche passo indietro, male non sarebbe. Via. Fuori. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Buono. Via. Non l'avevo visto. Che culo. Aspetta che ce n'ho altri sicuramente intorno. Ok. Ma i sacchiliati sono tutti e due in terra, sai? Esatto, sono tutti e due in terra. Quindi ce la dobbiamo fare. Questi non oppongo resistenza. Quindi sono buoni. Area libera. Ragazzi. Tararara, tararà, cospirazione portata a termine. Bellissimo. Molto suggestivo. Abbattuta la nave. Mi aspettavo un trofeo però ragazzi Avanti, punteggio 105 cyborg, 61.070 Mi dispiace per i 5 civili Svegliati Va bene così